ciao a tutti benvenuti nel mio canale sono tornata con il solito appuntamento del lunedì con un'altra decorazione agenda e questa è la ventesima settimana che si è appena conclusa e come potete notare anche voi ho aggiunto delle cosine come sempre venerdì sono stata da tiger e ho comprato delle cosine ma diciamo che questa collezione non mi piace molto come sapete la collezione di magia di tiger è a tema insetti scarafaggi falene e farfalle e così via diciamo che gli unici che si sa c'è gli unici insetti diciamo che si salvano sono le farfalle e e poi come sempre ho aggiunto delle cosine e serie tv che guardo i film in tv e così via questa che è appunto la ventunesima settimana che va da lunedì 20 maggio a domenica 26 ho deciso di decorarla a tema aladin ebbene sì ho deciso di decorarla a tema aladin perché questa settimana cioè mercoledì 22 maggio al cinema esce appunto il live di aladin e dal momento che è uno dei miei cartoni animati preferiti ho deciso appunto di dedicargli oggi non riesco a parlare una settimana appunto in suo onore come uoci principale utilizzato questo uoci qui base blu con tutti questi cuoricini e stelline un po tema innamorati non saprei come definirlo comunque mi piaceva ci stava secondo me veramente bene con gli stickers di aladin che avevo qui c'è ok ok e scusate dove ero rimasta ok ho deciso di utilizzare appunto come dicevo questo uoci principale perché secondo me ci sta veramente bene con gli stickers poi per dividere i giorni della settimana utilizzato due uoci slim uno base bianca con le stelline argento e uno semplicemente argento con tutto questo effetto olografico e il uoci principale non non l'avete mai visto perché mi è arrivato da due giorni in un video spacchettamento che vedrete più avanti quindi scusatemi se sto già spoilerando una cosa ho utilizzato finalmente questi stickers che avevo comprato a 20 centesimi al mercato quelli che avevo preso tutti a tema disney e che dire poi per scrivere i giorni della settimana ho utilizzato una semplicissima penna argentata e ho voluto attaccare qualche stellina qua e là e poi che altro dire a poi ok ho scritto che mercoledì 22 oltre che esce aladin e così via anche l'anniversario di matrimonio dei miei genitori quindi me lo sono scritta per non dimenticarmelo appunto ci ho attaccato loro due aladin e jasmine e che dire gli appuntamenti video di questa settimana gli appuntamenti video di questa settimana sono tre e sono lunedì 20 come sempre il solito video decorazione agenda dove vi mostro come ho deciso di decorare questa settimana poi ci sarà un altro video spacchettamento di aliexpress mercoledì 22 maggio e poi venerdì 24 ci sarà un altro video dove vi mostro delle cose molto carine che ho comprato ci saranno anche degli stickers qua e là l'ho comprato un po in giro quindi se vedrete il video vi spiegherò bene tutto lì poi scritto i miei soliti impegni lavorativi insomma i miei soliti impegni che ho e poi qua e là ho deciso appunto di attaccare appunto gli stickers e a mi sono dimenticata scrivere che venerdì si venerdì come no giovedì 23 faccio 4 anni con la patente wow come vola il tempo comunque in ogni caso questa è la mia decorazione di questa settimana non scrivo nient'altro perché comunque voglio lasciarmi un po di spazio per scrivere altre cose visto che come avete visto le mie settimane sono sempre 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 molto cariche scrivo veramente tante cose a giovedì 16 maggio mi sono fatta una nuova nail art appunto l'ho fatta tema principessa tema jasmine così via tutto sommato mi piace ma aveva preso voglia un così ecco tema principesse visto che gli stickers per le nail art non veramente tanti quindi è anche giusto ogni tanto utilizzarle le cose e che dire questa era la mia decorazione agenda di questa settimana se volete essere salutati in qualche video scrivetemelo sotto nei commenti fatemi sapere se questa decorazione agenda vi piace che mi farebbe veramente molto 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 piacere se volete essere salutati come dicevo vi saluto il prossimo lunedì cioè lunedì 27 e poi che dire che dire che dire che dire che dire questa è la mia decorazione agenda non perdetevi appuntamenti vabbè a parte questo qui del lunedì ma quello di mercoledì 22 quello di venerdì 24 maggio e qui ci saranno veramente delle cose super 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 belle quanto avrò detto super non lo so neanche io comunque tralasciando oggi non riesco a parlare non so perché non riesco a parlare perché un forte mal di testa quindi non riesco a connettere i pensieri alla bocca evidentemente comunque questa era la mia decorazione agenda spero che questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al mio canale lasciarmi un bel pollicione in su grazie nuovi iscritti un bacione grande grande ciao al prossimo video ciao